Ecologia è una parola bellissima. Il termine greco oikos vuol dire casa e quindi ecologia è lo studio della nostra casa. E la nostra casa è il pianeta Terra con tutti i suoi viventi tra cui piante, animali e funghi e i biomi e gli ecosistemi in cui questi viventi si trovano come foreste, boschi, mari, oceani, laghi, praterie e perché no anche tutti quegli ecosistemi in cui l'uomo vive e in cui l'uomo esercita la sua azione di manipolazione tra cui ad esempio campi agricoli o perché no anche le nostre città. L'ecologia affonda le sue radici in quelle che sono le scienze naturali, che sono una branca di discipline molto vaste che includono la botanica, la zoologia, la geologia, la paleontologia, la chimica e la fisica. In questo canale troverai spunti di approfondimento, didattica e divulgazione in ambito di ecologie e scienze naturali, a cura di ecologi naturalisti come me o di altre persone che collaborano con me o di chi metterà in condivisione le proprie esperienze per questo canale. Se ti interessano questo tipo di argomenti ricordati di iscriverti a questo canale YouTube e perché no clicca sulla campanellina in basso in maniera tale da restare sempre aggiornato. Inoltre seguici anche su Facebook e su Instagram dove troverai degli altri contenuti complementari ai video che vedrai qui su YouTube. Grazie e a presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.